Non a te? A te? Dai, vediamo a te! Congratulazioni! All'ordine, un giocamento dell'offerta formativa che è denominato CRIO, che soffa appunto di comunicazione, teatro, cinema, e che i ragazzi realizzano durante il percorso curriculare. I ragazzi sono stati bravissimi, da soli hanno costruito questo video e ci hanno sorpresi, ci hanno veramente sorpresi e siamo felici per tutto questo. Grazie, grazie ragazzi, perché il meglio è soprattutto loro. Noi vediamo la formazione, cerchiamo il migliorare, ecco, la possibilità di far migliorare. Loro ovviamente non le può accadere. Grazie, grazie a te. Ai docenti, grazie al docente del genetore del ministro Sarsan e grazie al suo studio di ragazzo. Grazie a te, grazie a te. Poi, se avessi il senso, vorrei che uno alla volta ci dicessi un ricordo di questo sottopontaggio. Quanto state portando per voi? E ti sentite qui? Sì, sicuramente. Va bene, è stata sicuramente una bella esperienza, anche perché abbiamo fatto tutti quanti assieme, abbiamo preparato tutto quanto, e comunque è anche una grande emozione, e comunque è anche una rivoluzione. Bene, grazie alla quarta notte del liceo classico Giannone di Benevento. Signore, noi ci concediamo, ma solo per...